Come vedete dal tabellone, 32 minuti e 41 secondi alla fine di questo sesto livello, poi ci andrà in pausa break, sono i giocatori 151 in gioco, 179 partiti. Andiamo a vedere una mano al tavolo numero 12. Vediamo come andrà questa mano al tavolo numero 12. Prendiamo la distribuzione delle carte. Folt. 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 600. Così? 600. 600. Beh, 500. Folt. 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 1800. 1800. Re-Race, 1800. Folt. 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 una mano al tavolo numero seguiamo vabbè prima in risato hai mostrato un 3 tutte e due le situazioni non erano da race tutte e due le situazioni erano da censurare qualunque quindi non ti credo più la mia volta sorridi ho giocato bene prendiamo la mano come si svolgerà iniziamo a punto gioco perché ce l'ha delle gambe 1100 1100 no nats 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 nats